La forza del nostro viaggio, questo è lo slogan scelto dall'Auspi CGL, il sindacato dei pensionati, che oggi a Nuoro sta celebrando il suo nono congresso provinciale. Un appuntamento molto sentito in una provincia come quella di Nuoro, in cui per il fenomeno dello spopolamento e dell'impecchiamento si hanno percentuali altissime di pensionati. Nella sala conferenza dell'Eurotel si sono riuniti i dirigenti e i delegati provinciali che dovranno procedere al rinnovamento delle cariche elettive. In sala anche i dirigenti degli altri sindacati della CGL e anche il segretario generale provinciale Salvatore Pinna. La CGL andrà al congresso plenario provinciale la settimana prossima. I lavori sono stati aperti dal segretario uscente Giuseppino Ghisu, che ha tracciato un bilancio del suo mandato in rappresentanza degli oltre 13.000 iscritti. Un intervento che ha abbracciato tanti argomenti, dalla crisi che investe ormai in ampi settori della popolazione ed è pagata dalle fasce più deboli, di cui i pensionati ormai fanno stabilmente parte, ma anche le campagne svolte dallo SPI CGL per la sicurezza degli anziani dai pericoli rappresentati dai malviventi che in diverse occasioni si sono accaniti contro persone indifese. In occasione del congresso, lo SPI CGL ha elaborato un corposo dossier sulla condizione degli anziani in provincia, accendendo i riflettori sulla grande incidenza che i redditi da pensione hanno sull'economia del territorio. Tra IMS e IMPIDAP il volume di denaro che muovono le pensioni è di 600 milioni annui, che salgono in Sardegna a oltre 8 miliardi e mezzo di euro. Senza questi redditi, che spesso contribuiscono a far andare avanti le famiglie di figli e nipoti, sottolinea la CGL, la tenuta democratica e sociale della provincia sarebbe a rischio. La crisi ha colpito il nuorese con i paesi che si spopolano, da qui la necessità per le istituzioni nazionali e regionali di intervenire per porre un freno a questo inesorabile declino.